Bene, siamo allo scoglio da Paulina Isola d'Elba e vediamo come fare il legaccio per le scarpe. Abbiamo un paio di scarpe legate e le andiamo a slegare. Vediamo i lacci, stringiamo bene, incrociamo così, passo sotto il legaccio di destra e stringo. A questo punto faccio il primo cappio, lo passo sotto e con l'indice creo lo spazio per passare qua il secondo cappio. Andiamo a stringere e stringiamo bene. In questo modo abbiamo fatto il legaccio per le scarpe. La variante al legaccio delle scarpe classico è il doppio nodo. Quindi prendiamo, facciamo ancora un nodo sopra e andiamo a tirare. E così abbiamo un nodo di sicurezza che impedirà al nostro legaccio di sciogliersi. Per sciogliere il doppio nodo sarà un pochettino più difficile e poi alla fine tirando in questo modo abbiamo le nostre scarpe legate. Come fare il legaccio alle scarpe.